Questo è l'ospedale vecchio, però è come l'ospedale nuovo, perché sono stati spesi già più di 150 milioni di euro negli ultimi anni. E ora ne vogliono spendere altri tanti, anche di più, per farne uno nuovo e buttare via questi soldi. A me sembra una cosa assurda. Poi nell'ospedale nuovo si perderanno dei posti di lavoro, si perderanno oltre 200 posti letto. Sarà un ospedale che accentra la sanità lì a discapito dei distretti sanitari. Infatti i distretti sanitari del centro o quello delle sorgenti verranno dismessi. Quello del centro è già stato dismesso e le sorgenti fa poco. E quel posto laggiù a Montenero si raggiungerà male, sappiamo tutti che ci sono problemi di viabilità. Insomma, per me il discorso è molto semplice. Votiamo tutti sì al referendum, intanto per interrompere questa idea fasulla, sballata, di fare il nuovo ospedale a Montenero. E poi per riprendere in mano il discorso di una sanità pubblica e diffusa nel territorio alla porta per tutti.